ecco una cosa di cui parlare il tema bimota battà superbike bimota battà sì bimota battà no dopo aver letto una serie di cazzate interminabili su il team star che chiudeva che andava a fare la superstar che poi neanche c'è però questo fa parte di una cosa che ho spiegato in un altro video cioè del professionista che deve scrivere qualcosa a tutti i costi se no non lo cliccano e non mangia e si trasforma in dilettante ma tornando a questo c'è un tema veramente importante di cui parlare un tema tecnico è un tema di cuore è un tema di regolamento quindi anche un giuridico sportivo ed è se è giusto che corra la bimota e il suo nuovo sodalizio quinquennale combattà il team mal star che si dovrà occupare secondo comunicati di fornire tutta l'assistenza nello sviluppo della moto dal punto di vista marketing logistico comunicazione e quindi bimota ha scelto un partner importante si fida molto ma parte dell'importante con una grossa storia dei titoli vinti si sta buttando a capofitto in un'impresa molto rischiosa il regolamento dice questo della superbike se una moto non è in produzione non può correre non può correre le regole sono vecchie ed è giusto riconsiderarle perché non si può prescindere dal fatto che non si debba abbattere anche diciamo così non si devono cambiare le cose se il mondo cambia però non è neanche giusto abbattere l'ultima regola della superbike rimasta in piedi tra i fondamenti della superbike ossia la possibilità di comprare una motocicletta prepararla e correrci perché questa moto esiste realmente sul mercato se tu rischi come pensano alcuni di fare la moto di non farla per niente di farne quattro di cui due corrono una è in stabilimento e l'altra è nel laboratorio del team che la fa girare allora è giusto che tu non corra però se tu pensi che invece sei in grado di iniziare a produrre le moto a gennaio o magari anche un pochino più tardi inizia a farle a marzo pensi di farne un numero giusto entro la fine dell'anno e l'anno successivo allora è anche giusto riconsiderare l'ipotesi che tu possa correre questo perché è arrivato recentemente un comunicato d'orna che spiega come si stia effettivamente prendendo in considerazione questa eventualità ossia la richiesta di bimota e al star di correre spiegandola con l'evoluzione purtroppo in negativo dei numeri di mercato cioè di produzione vendita delle moto sportive degli ultimi anni che non sono più quelli di una volta non possono più essere il metro di giudizio per far correre una moto a livello di ms ma ossia quelle che producono quelli che producono motociclette i produttori della riunione c'è stata una discussione sul fatto di rivedere i numeri minimi di produzione e fa comodo tutti delle moto ma quello che è difficile accettare che possa correre una moto che non esiste sono vere due cose sono entrambe importanti una che uno che veramente ha fatto una super bike insomma ma anche un campionato nazionale oppure un trofeo diciamo così sa quanta roba viene cambiata in una motocicletta per metterla in condizioni di correre c'è una super bike uno vuole fare la super bike con una motocicletta comprata in negozio sa che deve smontarla e cambiare una certa percentuale della sua componentistica una percentuale vicino al 60 65 per cento addirittura una nota casa fino allo scorso aveva anche vari telai quindi capite bene che di serie e diciamo il campionato è solo nominale vuol dire che non c'entra quasi nulla la moto con cui tu corri con la moto con che tu compri e che quindi produci non è più come fine anni 80 90 inizi anni 90 dove le moto di serie erano veramente di serie tu la compravi la te la preparavi e facevi la tua bella figura o vincevi anche rischiavi di vincere è anche vero che comunque le moto da comprare e stravolgere ci devono essere altrimenti prende tutti in giro nel passato a questo ci si appoggia anche a volte sono state interpretate un po le regole anche la buona un conto dire però partiamo e ci arriviamo perché allora la cosa può stare bene anche le altre case perché potrebbero aver bisogno tutti di qualche deroga un giorno ma la moto deve essere venduta almeno entro l'anno in cui si corre come appassionato diciamo un marchio in più è importante diciamo è come aggiungi spettacoli più prestigio in più ed è un campionato che si è già arricchito di nuovi player che ha cambiato molto nell'ultimo periodo e che vive il suo vero primo il primo vero anno di nuova proprietà perché l'anno scorso è stato un anno di transizione però anche giusto che come personale rispettosa delle regole è giusto che chi le segue non venga penalizzato specialmente se le moto poi degli avversari ammessi in deroga capita che vadano anche forte se dorna sta andando nella direzione di accettare bimota vuol dire che c'è una base di disponibilità da parte delle msma cioè dell'argomento del dell'organizzazione delle case perché dorna non farebbe mai una cosa contro tutte le case e se questa disponibilità c'è significa che bimota sia longoni e chiancianesi che sono i nuovi proprietari di bimota hanno avuto degli argomenti convincenti nei confronti del dei loro interlocutori ossia le case e dorna e quindi diciamo così sono convincenti anche insieme a battà che è il nuovo referente non solo racing ma anche di sviluppo commerciale marketing comunicazione eccetera di questa azienda longoni e chiancianesi secondo me sono degli appassionati ma non sono uomini puramente di moto e di corse penso ipotizzo ma una cosa di cui sono sicuro è che hanno un piano industriale di marketing di un certo tipo e di placement del prodotto sia di come venderlo a chi venderlo e di mission aziendale tutte quelle cose che servono alle aziende per non andare alla cieca questo perché io ho parlato molto di persona almeno con uno di loro e mi hanno spiegato molto dettagliatamente la loro idea ma la cosa che mi convince di più oltre alla loro idea che condivido è che io avevo parlato anche con la gestione precedente e non avevo capito quasi niente di quello che volevano fare e forse neanche loro lo sapevano in questo caso diverso bimota e battà dovrebbero andare dalla dorna della msma e dire e penso che sia andata così oh dorna ragazzi noi entro il 2014 facciamo tot moto non lo so 100 200 300 non lo so entro 2015 ne facciamo tot non ci levate la possibilità di correre quest'anno perché noi abbiamo messo insieme le forze stiamo facendo tutto un discorso di piano industriale comunicazione ma anche quello che secondo me ha reso frettolosi ed affrettati i due comunicati di al star usciti di domenica e di lunedì subito dopo le vacanze ad un orario imporcisato quindi bimota e battà vogliono dire noi abbiamo un'idea di come fare le moto quante fa ne sappiamo anche come venderle per cui se ci fate correre quest'anno ci aiutate non ci tagliate fuori del resto non mi pare che ebr ossia rb racing che si è messa con aero corporation si è messa così diversamente tanto meglio devo ancora capire come hanno fatto ad omologare la buell perché quella è una buell e a venderla nei numeri richiesti per la superbike a meno che non se le siano comprate tutti gli indiani se le siano messe nel capannone come ha fatto la petronas qualche anno fa che le moto c'erano ma il 90 per cento erano auto vendute in inghilterra ce ne erano 75 e il resto sono stati trovati anni dopo in un capannone mi ricordo dove e se ne trovassi una la comprerei detto fra noi ovviamente il caso di abr non è così perché eric buell è uno che faceva industria azienda motociclistica anche se gli hanno chiuso la buell comunque aveva un piano industriale una moto omologata stradale e quindi il prodotto è disponibile e confacente alle regole sbk anche se se vai sul sito di abr devo dire si scopre scopri che hanno un unico rivenditore in europa dealer a cui ho scritto più volte già da alcuni giorni e dal quale sto ancora aspettando risposta perché ho detto che volevo comprare un abr e nessuno appunto mi ha risposto quindi non è neanche così facile comprare una ebr e allora in questo momento in una situazione come questa la differenza fra eric buell e bimota diventerebbe molto più sottile di quello che molti pensano perché si parla appunto di moto disponibile nei concessionari se una moto tu l'hai fatta dici che l'hai fatta è omologata ma poi alla fine un pazzo tipo me che vuole comprarla non riesce qual è la differenza fra una moto che non posso comprare è una moto che non c'è se volessi correre da privato con un ebr potrei farlo magari sì ho sbagliato numero non mi hanno risposto mi risponderanno hanno da fare li capisco però insomma il senso è questo quindi io credo che eric buell racing sia a postissimo e bimota abbia fatto delle promesse che probabilmente riuscirà a mantenere io ci credo molto l'augurio che bimota appunto abbia le carte in regola per essere accettata perché fa parte della storia della superbike avendo vinto la prima gara in assoluto con tardozzi ad onniton nel 88 e poi fra l'altro c'è un altro dato curioso sia che dovrebbe correre insieme ad airton badovini il figlio del compagno di squadra di tardozzi di quella volta ossia il figlio di polidon christian idon che ha fatto tanto bene in mv nella super sport non è che bimota deve correre per questo ma bimota la mia sensazione che abbia mostrato degli argomenti abbastanza convincenti per correre quest'anno ci sono degli argomenti oggettivi che sono che il numero delle moto non può più essere quello di una volta degli altri argomenti oggettivi che dicono che una motocicletta che corre in superbike non ha niente a che fare con quella della serie ci sono argomenti che dicono che se presenti un piano industriale riesce a produrre delle motociclette puoi essere ammessi in deroga come è successo ad altre case una di queste forse corre anche quest'anno quindi probabilmente è giusto che bimota corra per tanti motivi per nessuno di questi motivi da solo ma per tutti questi motivi insieme ovviamente esiste la possibilità che bimota ce la faccia davvero perché anche se il mercato è affollato si fanno fatica a vendere motociclette il lusso l'esclusività non è mai come posso dire in difficoltà veramente lo dimostra che in 15 il fatto che in 15 giorni ducati ha venduto 500 superleggere da 65 mila 66 mila euro avendo ricevuto 620 prenotazioni quindi vuol dire che se il settore è in crisi ed è vero è anche vero che c'è sempre fatto spazio per le cose esclusive fatte bene differenziate dalla massa per chi soldi li ha ancora e quindi c'è spazio anche per bimota da qui la possibilità di farcela a rispettare quei numeri vedremo se ci sarà da parte di dimota se c'è stato da parte di dimota una argomentazione convincente delle proprie ragioni e se c'è dall'altra parte l'elasticità di accettarle nel caso le argomentazioni siano state sufficienti detto questo sarebbe curioso sapere visto che tutti gli argomenti li abbiamo sviscerati e dipanati cosa ne pensate voi bimota si nel 2014 a far le corse e a ravvivare il campionato o bimota no deve aspettare perché legalmente non ha i numeri grazie a tutti grazie a tutti